L'industria pesarese lancia la sfida a un futuro complesso. L'imprenditore Vittorio Livi premiato col sigillo d'Ateneo. Taglio del nastro alla nuova sede con Fartigianato di Pesaro. Furti e detenzione illegale di armi, arrestato 58enne. Oltre le barriere, educazione cinofila a sostegno della disabilità. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80, che in questa edizione di giovedì 19 ottobre apriamo occupandoci di economia, perché oggi e ieri i vertici nazionali del mondo dell'industria e dell'artigianato hanno fatto tappa a Pesaro, a tappa nella provincia di Pesaro Rubino, in due momenti distinti, importanti, per le associazioni di categoria provinciali di Confindustria e di Confartigianato. Ci occupiamo prima di Confindustria andando a vedere i temi emersi durante l'assemblea annuale tenutasi a Palazzo Ducale di Urbino. Palazzo Ducale di Urbino ha ospitato mercoledì sera l'assemblea annuale di Confindustria Pesaro Urbino alla presenza del presidente nazionale degli industriali Carlo Bonomi. Titolo dell'assemblea, La nostra impresa fra pubblico e privato binomio possibile. Un binomio sollecitato dallo stesso Bonomi e dalla presidente provinciale di Confindustria, Alessandra Baronciani, che al termine del suo secondo anno di mandato, ha fatto presente come il settore sia pronto ad affrontare le complesse sfide di ambiente, sicurezza, infrastrutture e immigrazione. Io ho vissuto da vicepresidente con Mauro Papalini la pandemia. Pensavamo di esserne usciti ed è arrivata la crisi energetica, l'Ugrana-Ucraina, oggi l'orrore della guerra di Gaza e che per il momento sicuramente siamo tutti focalizzati solo su quello che sta succedendo perché veramente prende le coscienze di tutti ma poi avrà una ricaduta importante sull'economia mondiale perché comunque poi sull'energia ricade tutto e su tutti i prodotti, sull'inflazione. Cioè a catena abbiamo visto cosa è successo con la crisi energetica, con la guerra in Ucraina adesso ancora stiamo pagando per questa cosa con l'aumento dei tassi di interesse, l'inflazione e quindi la difficoltà anche dei salari che perdono potere d'acquisto. Adesso vediamo cosa succederà purtroppo siamo tutti molto preoccupati per questo. Qui mi sento a casa due volte prima perché sono in Confindustria che è la mia vera famiglia dove di fatto ho sempre operato nella mia vita per cui da imprenditore, da rispettoso del lavoro mio padre era operaio mia mamma era insegnante elementare io lavoro come primo motivo all'articolo 1 della Costituzione il lavoro ci deve accomunare poi possiamo avere idee diverse su tantissime cose anche il bello della democrazia ma sul lavoro non possiamo dividersi il lavoro non si fa per decreto lo costruiscono le imprese questo perché è casa mia secondo perché questa comunità la sento molto vicina la comunità adriattica per la storia e per il modo garbato con cui ci si pone sempre ma anche molto tenace e molto testardo perché penso che temi che hanno affrontato che sono temi che si possono risolvere è giusto che vengano risolti e non è un vantaggio solo di peso di Urbino di questa comunità delle Marche ma è un vantaggio per tutta l'Italia in occasione dell'assemblea annuale di Confindustria l'Università di Urbino ha conferito il suo annuale sigillo d'Ateneo all'imprenditore Vittorio Livi presidente e fondatore dell'azienda pesarese Fiam lo ascoltiamo intervistato ai microfoni di Paolo Pagnini Vittorio Livi imprenditore conosciutissimo a Pesaro conosciutissimo dai nostri telespettatori possiamo dire il protagonista della serata di questo pomeriggio perché è vero che si tratta dell'assemblea generale di Confindustria Pesaro Urbino ma è previsto questa attribuzione del sigillo d'Ateneo questo prestigioso riconoscimento accademico una grande soddisfazione sì veramente tanto anche perché io onestamente all'Università di Urbino ci ho sempre tenuto in modo particolare perché è stata sempre una di quelle istituzioni che sono molto presenti e che tra l'altro sono molto importanti per le aziende per far crescere attorno a noi una qualità che senza l'Università non sarebbe possibile questo riconoscimento che da qualche anno l'Ateneo dà a imprenditori che hanno fatto un po' la storia del nostro territorio e sicuramente Vittorio Livi è uno di questi in più come Ateneo è anche un modo per ringraziarlo della sua attività di consigliere di amministrazione che ha fatto per credo otto anni che quindi è un impegno per chi ha altre attività dedicarsi a fare questo tipo di attività perché richiede entrare in un mondo totalmente diverso da quello dell'impresa è vero che anche noi siamo un'impresa ma lavoriamo in un contesto completamente diverso da quello degli imprenditori italiani e anche del nostro territorio Ho sempre creduto che l'impresa sia un'attività sociale perché con noi non ci portiamo via niente quindi la cultura che creiamo attorno a noi è la cultura che poi si riversa sul popolo certo che questi momenti sono dei momenti molto difficili ma però come purtroppo tante altre cose la velocità sta cambiando la velocità è una cosa che sta mettendo in difficoltà il mondo una volta anche una volta c'erano gli accadimenti ma erano molto più lenti e uno faceva in tempo adattarsi ai cambiamenti uno oggi non può più pensare a cosa cambia ma bisogna imparare cos'è il cambiamento perché se uno non impara questo viene veramente stritolato e rullato dalle grandi forze e vi ricordiamo che potrete ulteriormente approfondire i temi emersi durante l'assemblea annuale di Confindustria Pesaro Urbino nello speciale che Rossini TV ha realizzato e che trasmetterà lunedì 23 ottobre alle ore 21 e 20 da Confindustria a Confartigianato che da oggi ha una nuova sede nella città di Pesaro si trova nella zona Torraccia e quest'oggi c'è stato il taglio del nastro anche alla presenza del presidente nazionale di Confindustria nonché di tante importanti autorità del territorio oggi siamo stati presenti all'inaugurazione della sede di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino per quanto riguarda la provincia di Pesaro una sede che è situata in una zona strategica della città in quanto nel quartiere di Torraccia nei pressi del casello autostradale è abbastanza vicino a tutta l'area commerciale che ruota intorno alla Vitri Frigo Arena oggi è un giorno importante per Confartigianato perché siamo riusciti a completare un percorso che ci ha visto protagonisti dal 2016 nella provincia di Pesaro Urbino è un percorso che ha portato questa associazione di Marche Nord ad avere 10.800 imprenditori associati nella provincia di Pesaro in pochi anni avere 2847 nuovi associati e 3500 pensionati che si sono rivolti alla nostra associazione quindi un segnale importante un segnale di vicinanza al territorio in un contesto economico estremamente complesso in un contesto in cui bisogna aiutare i nostri imprenditori semplificando assolutamente la burocrazia questa è una sede di mille metri che creerà grandi opportunità in cui i nostri imprenditori potranno trovare un sostegno su quello che riguarda l'area fiscale l'area dell'area lavoro il credito l'ambiente sicurezza l'energia una consulenza marketing per affrontare il cambiamento noi vorremmo che diventasse un luogo di aggregazione innanzitutto come è la nostra sede di Ancona dove organizzare corsi dove creare luogo di incontro creare informazione e dare informazioni deve essere una casa comune per le attività che ci sono nella zona e vorremmo fare in modo appunto che diventi una casa viva e che possa funzionare e dare tutti i servizi che possono servire alle attività imprenditoriali e noi come associazione come Confattigianato Nazionale vogliamo ribadire sempre il nostro appoggio la nostra vicinanza e riaffermare anche il valore della piccola impresa dell'artigianato come elementi essenziali oggi per la crescita lo sviluppo del paese non solo dall'ambito economico ma anche come attori sociali quindi coesione sociale che si fa soprattutto per la capillarità per la presenza e per il fatto che oggi essere artigiani significa anche incrociare tre dinamiche fondamentali il desiderio delle persone di sentirsi parte delle comunità nelle relazioni nei luoghi nelle iniziative che li coinvolgono il valore di un'innovazione aperta perché siamo al di là di quello che pensano tutti estremamente tecnologici quindi non siamo una riserva in diama e non siamo neanche in via di estinzione e poi una produzione attenta e consapevole dell'ambiente sono state fatte delle leggi sull'innovazione tecnologica sulle filiere e sulle start up innovative queste leggi regionali hanno concorso a creare un sistema normativo della regione Marche che è all'avanguardia rispetto a ogni altra regione e in particolar modo adesso stanno partendo le misure finanziarie per realizzare gli obiettivi di quelle leggi ed è un momento molto favorevole per l'impresa artigiana tant'è che nel 2023 nei primi mesi del 2023 si segna la fine di un decadimento anagrafico delle imprese artigiane che erano in un crollo verticale questo perché bisogna puntare sull'impresa artigiana però in una chiave innovativa ci sono delle eccellenze di livello mondiale pensiamo semplicemente all'industria motoristica queste eccellenze ci sono riconosciute da tutto il mondo quindi questa piccola regione fa delle cose grandi per mezzo dei grandi artigiani dei grandi imprenditori un pezzo della cultura del nostro territorio è legatissima all'artigianato quindi questa nuova sede è un impulso anche a guardare con fiducia al futuro per tante imprese piccole imprese sappiamo che il momento non è dei più facili per i conflitti internazionali per le ripercussioni che hanno sull'economia però qua c'è un tessuto che ha sempre trovato grande capacità di innovazione di rinnovamento e la capitale della cultura è un modo per valorizzare anche loro e anche l'inaugurazione della nuova sede di confartigianato così come i temi legati a questa categoria saranno oggetto di uno speciale d'approfondimento che andrà in onda su Rossini TV martedì 24 ottobre alle ore 21 e 40 ed ora passiamo alla cronaca che ci porta tra Fano e Colli al Metauro parliamo infatti di un arresto che è avvenuto in seguito a un furto in abitazione a Fano a finire in manette un 58enne di calcinelli per le ragioni che spieghiamo in questo servizio i carabinieri di Fano e Colli al Metauro hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne che martedì mattina aveva appena consumato un furto all'interno di una casa sulla via Flaminia di Fano militari che sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un uomo sospetto allontanatosi dall'abitazione in questione l'uomo è stato rintracciato e dopo una perquisizione nel suo furgone sono stati trovati diversi oggetti di antiquariato trafugati nella casa appena svaligiata tra questi un lampadario tre candelabri un'immagine sacra in ceramica e oggetti in ottone rame facente parte dell'arredamento della casa tutto materiale restituito subito al legittimo proprietario la successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso ai carabinieri di rinvenire un fucile rubato un altro fucile monocanna da collezione una baionetta da guerra una catana e oltre 100 cartucce tutto non regolarmente denunciato in casa poi sono stati trovati altri materiali ritenuti di provenienza furtiva un condizionatore ancora imballato due orologi di valore diversi soprammobile e due bancomat su cui si indaga circa l'eventuale utilizzo fraudolento trovata anche una bicicletta pieghevole risultata rubata all'unieuro di fossombrone e una lambretta risultata rubata allo scorso marzo a Fenile il 58enne è stato dichiarato in arresto e condotto al carcere di Villa Fastigi dove risponderà di furto in abitazione detenzione abusiva di armi e munizioni e omessa denuncia e recettazione si intitola le motociclette anteguerra della collezione Asi Morbidelli la mostra ideata da registro storico Benelli e motoclub Pesaro Tonino Benelli in programma da questo sabato 21 ottobre fino al 19 novembre con l'intento di valorizzare una delle più straordinarie collezioni motociclistiche presenti nella nostra città e oggi ospitata temporaneamente all'interno del museo Officine Benelli dove si terrà la mostra con taglio del nastro sabato alle 18 si tratta di un patrimonio unico al mondo rappresentato da 71 motociclette di inestimabile valore appartenute al genio pesarese della meccanica Giancarlo Morbidelli ed acquisite da Asi nel 2020 e invece dal 21 al 23 di ottobre si terrà ad Urbagna la 29esima mostra micologica un evento culturale didattico e ambientale per far conoscere ad un vasto pubblico i funghi autoctoni del territorio dall'alto metauro fino alla massa Trabaria ci saranno convegni d'approfondimento e in mostra troveranno spazi i funghi e le bacche raccolti dalle associazioni locali e dagli appassionati fungaioli domani venerdì 20 ottobre alle ore 21 nella cattedrale di Pesaro l'Arcidiocesi organizza la veglia missionaria del mese di ottobre presieduta dal vescovo Sandro Salvucci e animata dal coro sinodale nella veglia sarà ascoltata la testimonianza di giovani del territorio che hanno scelto di partire e vivere una esperienza missionaria e poi gli appuntamenti culturali quelli del festival GAD che continua al teatro Rossini di Pesaro domani venerdì 20 ottobre alle 21 lo spettacolo in concorso è quello delle notte di teatro di Gualdo Tadino che metterà in scena Copenaghen titolo e testo scritto da Michael Freyne che racconta l'incontro scontro tra due luminari della scienza del novecento quali il fisico Heisenberg e il suo maestro Nils Bohr e invece domenica 22 ottobre a partire dalle 10 nella sede di Confcommercio Marche Nord l'associazione 50 e più Pesaro Urbino di Confcommercio in collaborazione con terziare donne Stella Scarpa Beauty Personal Trainer organizza il convegno Eterna Giovinezza Mito o Realtà? Lo stare bene in età avanzata infatti assume oggi un significato più ampio in cui concorrono non solo benessere estetica e forma fisica ma anche l'utilizzo del tempo libero e una serie di fattori emotivi psicologici e sociali Interverranno su questi temi il professor Manolo Farci dell'Università di Urbino il dottor Matteo Manzo che parlerà insieme a Stella Scarpa dei trattamenti estetici in chirurgia plastica il dottor Carlo Militello biologo e ricercatore e infine si parlerà di come prevenire dolori e rigidità con la ginnastica posturale attraverso l'intervento del dottor Agostino Panzani specialista dei canali Postural Method e ci spostiamo a Fossombrone dove parte oggi Parole seconda edizione di questa rassegna culturale che si svolgerà nei prossimi 5 mesi nel centro storico forsempronese con 15 appuntamenti parte la rassegna artistico culturale Parole appuntamento giunto alla seconda edizione che si terrà a Fossombrone dal 19 ottobre al 23 marzo 2024 una rassegna legata ad un'idea di turismo e cultura capace di unire arte, storia e archeologia del territorio 5 mesi di appuntamenti nel centro storico di Fossombrone che avranno come filo conduttore unico la parola 15 eventi tra presentazioni di libri concerti giornate dedicate alla poesia dove si metteranno a tema le parole che sono un ponte di collegamento e di unione tra tutti noi Parole proprio frutto di una collaborazione tra cultura e turismo perché vogliamo attrarre grazie alla cultura grazie alla conoscenza e alla voglia di scoprire più persone è possibile a scoprire la storia di Fossombrone perché Fossombrone è solo da scoprire e dà la piena possibilità di diventare una delle città più importanti delle marche è una rassegna che ha trovato il sostegno da parte dei bandi appunto della cultura saranno tutta una serie di incontri con gli autori rassegni appunto presentazioni di libri aperitivi letterari insomma tutto questo non fa che vivacizzare un territorio come è sicuramente quello di Fossombrone che ha molto da dare sotto il punto di vista culturale il 25 di ottobre allo stadio di Gallo di Petriano andrà in scena la ventunesima edizione di Oltre le Barriere un progetto che porterà sul campo calcistico petrianese circa 100 cani per tante esibizioni di educazione cinofila con proventi destinati a sostegno di progetti per la disabilità il 25 ottobre 2023 presso lo stadio del Gallo di Petriano avrà luogo la ventunesima edizione dell'amministrazione Oltre le Barriere organizzata da SEC società di educazione cinofila che all'interno ha un campionato di addestramento per cani nati e allevati in Italia quindi un campionato di addestramento SAS lo scopo dell'amministrazione Oltre le Barriere a cui parteciperanno tutte le autorità diciamo del pesaresi il prefetto questore a cui faranno parte anche di un comitato d'onore che assegnarà dei premi speciali che sono in durazione in beneficenza per i ragazzi dell'Aias quindi l'Aias di Pesaro e la terapia intensiva neonatale del Salesi di Ancona all'interno della manifestazione quindi della Kermess cinoagonistica vedrete delle esibizioni quindi delle simulazioni da parte dei carabinieri cinofili di Firenze della guardia di finanza di Pesaro e di Ancona quindi con i loro cani poi vedrete anche i vigili del fuoco e poi vedrete anche diciamo i nostri cani e forse verrà a trovarsi il campione del mondo in carica dell'addestramento per farci un piccolo cameo col suo cane Aias è un'associazione a carattere nazionale per la tutela e l'assistenza di persone con portatrici di handicap noi in particolare a Pesaro abbiamo due centri uno diurno e uno residenziale seguiamo circa 30 utenti gravi e gravissimi con disabilità grave e gravissima siamo un'associazione che cerca di dare un sorriso a questi ragazzi che purtroppo per la loro situazione fisica o anche mentale hanno una situazione di vita molto molto difficile siamo contenti di poter vivere queste esperienze con loro perché avere la vicinanza anche degli animali per loro è sempre molto positivo perché gli animali danno sempre un qualcosa di in più anche rispetto alle persone e quindi vi volevo invitare la nostra manifestazione che inizierà il 25 di ottobre alle ore 15 l'inaugurazione ricordo a tutti che l'ingresso è libero quindi vi aspettiamo numerosi e si conclude qui il nostro telegiornale come di consueto dopo il notiziario vi proporremo un altro dei trailer degli spettacoli in concorso al 76 festival GAD di cui Rossini TV è partner della rassegna vi ricordiamo che potrete votare i trailer preferiti sulla pagina facebook del GAD Amici della Prosa e poi Rossini TV premierà il trailer più votato con il premio Rossini TV durante la cerimonia di premiazione domenica 29 di ottobre vi ricordiamo che il trailer che vi proponiamo questa sera è quello dello spettacolo La strada della compagnia I giardini dell'arte di Firenze che poi andrà in scena al teatro Rossini mercoledì 25 di ottobre alle ore 21 e torniamo sulla nostra prima serata che come ogni giovedì è dedicata al basket l'appuntamento con insieme a canestro puntata che vedrà la nostra Elisabetta Ferri avere come ospite il playmaker della Carpegna Prosciutto Basket Matteo Tambone è l'ex giocatore della VL Federico Pieri l'appuntamento è alle 21.20 come ogni giovedì in diretta e come ogni volta con la possibilità di interazioni live di voi telespettatori attraverso il numero whatsapp che vedete in grafica 370 366 72 10 poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con la nostra consueta rassegna stampa buongiorno Rossini che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al sabato facciamo un salto in avanti anche alla giornata di domani venerdì 20 ottobre perché potrete vedere il nostro documentario realizzato a Villa Giulia storica residenza del grande tenore Luciano Pavarotti che è stata aperta al pubblico lo scorso weekend durante le giornate fai d'autunno appuntamento domani 20 ottobre alle ore 20 e 10 ed è davvero tutto per questa sera da parte mia di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi